Una città per tutti. Il sogno di Beatrice e il progetto di Rete Veneta si irradiano sempre di più su tutto il territorio. Varca confini fisici e mentali arriva fin nelle stanze dei Bottoni, lì in regione. Dagli uffici dell'ente partono da qualche tempo una serie di azioni che cercheranno di dare una mano ai comuni nella realizzazione del noto piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, il PEBA. Una pianificazione buona ma costosa, alla quale si stanno pian piano adeguando i comuni veneti in maniera però ancora disordinata. I comuni si stanno adoperando, un po' a macchia di leopardo, insomma non c'è oggi un'uniformità. Noi vorremmo cercare anche qui di rendere un po' più uniformi i vari interventi, ma anche il fatto che i comuni siano dotati di PEBA. Perché ad essere inaccessibili in questo caso sono i progetti e perché costosi e a farne le spese sono i comuni più piccoli. Un tavolo tecnico in regione ha messo insieme tanti assessorati proprio per dare una visione di insieme all'accessibilità che passa per l'urbanistica, i trasporti, la cultura. La volontà è quella di cercare di dare una visione organica, completa, regionale. Già per quanto riguarda i lavori pubblici mettiamo dei punteggi aggiuntivi quando ci sono dei bandi alle graduatorie a quegli interventi che vanno nella direzione dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Il sogno di Beatrice continua così come i progetti di Rete Veneta per un territorio accessibile in un coordinamento tra enti e progetti per delle città belle e accoglienti.